E Lenny Farmer... Non ce n'è uno con un nome normale! One, two, three, four... LennyCast. Pergevanie, mysli, встречi, radio... Hari Hari Bol, carissimi amici ed amici di LennyCast. Ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. Quando Viviana mi ha proposto il tema per questa puntata, partendo da un fatto di cronaca, ho subito acconsentito, anche perché avevo preparato una mia personale riflessione che non si discosta molto da quello che la stessa Viviana ci racconterà. E come gli anglofoni usano dire, great mind think alike. Da questo episodio diamo il benvenuto alla nuova voce che entra a far parte del cast, la poetessa Anna Martinelli. Dopo un lungo corteggiamento da parte di Viviana e da parte mia, alla fine ho, forse per spedimento, accettato di lasciare le sue tracce poetiche, e non solo, all'interno del nostro podcast. LennyCast. Cosa ci faccio qui? Non lo so. Se volete qualcuno a cui dare la colpa, prendetevela con Lenny e con Viviana Gabrini. Sono loro che con le loro lusinghe, promettendomi moltissimi soldi, questo non è vero ma mi piaceva dirlo, mi hanno convinto a fare questa pazzia. Ma prima di parlare della pazzia, mi presento, permettetemelo. Dice Paolo Conte che così come una lucertola è il riassunto di un coccodrillo, un tango è il riassunto della vita. Beh, a me piacerebbe essere il riassunto di una torta di mele, che nella vita è una delle cose che mi riesce meglio. Io mi chiamo Anna Martinelli, sono del secolo scorso, me ne vanto, e sono un cercatore di poesia. Mi piace leggerne, mi piace scriverne, male, naturalmente faccio entrambi le cose senza grandi pretese. Ho pubblicato piccolissime cose, che mi piace chiamare quaderni poesie, si intitolano di Dascaline, nuda, fotosensibile, parole povere, il cielo di scorta e altre offerte della settimana. Poi è arrivato il covid. E oltre alle torte di mele che io avessero fare bene, ma non bastavano, ho pensato che in quel momento avessimo davvero bisogno di poesia, di riflessione. Io ho lanciato un appello su Facebook, una di quelle cose matte che si fanno in quei momenti, in quei momenti e in una notte mi sono arrivate poesie, racconti, pensieri, immagini, poi il giorno dopo, il giorno dopo ancora, ed è nato contatto nel 2020. In fretta e fuori ho autopubblicato un'antologia poetica anti-covid, di cui andrò sempre fiera, perché ha rappresentato una vera e propria esercitazione pratica di poesia. Tante persone hanno partecipato, tante persone mi hanno aiutato, due in special modo che voglio nominare, Giorgia Ferrari e Chiara Nobilia, grazie a loro il libro si è realizzato. E ricavato è andato agli ospedali della mia zona, io sono della provincia di Cremona, che in quel momento erano in grande sofferenza. Poi nel 2021 ho vinto il premio Bukowski per la poesia inedita e ho potuto pubblicare un'altra raccolta che si intitola O2 Ossigeno, e che è la mia riflessione personale sul dispensa del covid, ma questa è un'altra storia. Insomma, come avrete capito, a me piace la poesia nel concreto, nei gesti, prima che nelle parole. Mi piace cercarla nella ditta di ogni giorno, alla faccia dei nostri tempi cinici e belligeranti. Mi piace trovarla nell'aspettata, nelle cose piccole, ma soprattutto mi piace trovarla nelle persone. Ed è questa la pazzia che mi piacerebbe fare con voi, cercare poesia insieme, seguendo percorsi insoliti, ascoltando musica, voci, animi, le cose che succedono, senza pretese intellettuali, ma sentendola, sentendola con il corpo, con l'anima, andando in vibrazione, in un'energia positiva, insomma, andare a caccia di meraviglia. Riassumendo, non so cosa ci faccio qui, non so come lo farò, ma se vi piace questa incertezza, possiamo provare insieme a cercare poesia. E vi lascio leggendovi una cosa che ho scritto in occasione della giornata mondiale della poesia lo scorso 21 marzo, e che si intitola Non so cosa sia la poesia. Non so cosa sia la poesia, ma so a quel che serve. Serve a sentirsi veri al mondo, a coltivare briciole d'immenso, a interrogarsi sul senso, a rimanere in piedi nel vento. Serve a fare l'orto, a portare le erbe ai conigli, le carezze ai gatti, le lasagne da far assaggiare. Serve da aprescatole, i bisturi. Serve a stringere vite, a incollare i pezzi. Serve a fare la pace, a costruire l'inimmaginabile, ad affermare diritti, a credere nella meraviglia. Serve a crescere i figli, a chiedere scusa, a non accontentarsi, a inventarsi ogni giorno nuovi. Serve a capire la vita e la morte. Serve a sapere dove mettere il cuore. Grazie e buona poesia a tutti. Lennycast. Oggi voglio parlarvi di famiglie Arcobaleno, perché noi di Lennycast ci schieriamo senza dubbi dalla parte di chi si vuole bene. E per noi famiglia è dove ci sono amore, rispetto e accoglienza. Famiglia sono un uomo e una donna. Due donne, due uomini, con o senza bambini. E famiglia per me sono anche una o più persone con uno o più gatti, uno o più cani, o pesci rossi, o pappagallini, o perché no, iguana. Insomma, siamo per il superamento dello stereotipo patriarcale uomo più donna, perché davvero crediamo che l'unico collante non sia l'eterosessualità, ma l'amore. Nei giorni scorsi, in piazza della Scala Milano, si sono riversate più di 10.000 persone, una manifestazione imponente, pacifica, allegra e colorata per rivendicare i diritti dei figli nati dalle unioni ombongenitoriali, intitolata Giù le mani dei nostri figli e dalle nostre figlie. Come molti di voi sapranno, lunedì 13 marzo, il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha chiesto al comune di Milano, su impulso del Ministero dell'Interno, di interrompere il riconoscimento all'anagrafe dei bambini nati da unioni omosessuali. Il riconoscimento dovrà infatti avvenire per opera di un tribunale. Si delineano tre casi. Nel caso in cui si parli di figli di due padri nati con la maternità sorrogata all'estero, a partire dal 30 dicembre scorso, sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è stabilito che si deve anzitutto trascrivere solo il padre biologico. Per quanto riguarda il genitore di intenzione, se i bambini hanno un atto di nascita formato all'estero, si proseguirà con il riconoscimento con l'adozione in casi particolari. Bisognerà quindi procedere davanti al Tribunale dei Minori per dimostrare l'esistenza di un legame di filiazione tra il bambino e il padre non biologico. Per quanto riguarda i figli di due madri nati in Italia, grazie alla fecondazione eterologa fatta all'estero, c'è più incertezza giuridica. Da un lato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sette volte contro il riconoscimento alla nascita. Dall'altro, la Corte Costituzionale ha chiesto al legislatore di prevedere una forma di riconoscimento tempestivo. Intanto però, alcuni tribunali e corti d'appello hanno autorizzato i riconoscimenti alla nascita per i figli delle coppie lesbiche. È stato proprio questo vuoto normativo che ha permesso il riconoscimento per via amministrativa a Milano e in altre città italiane. Infine, per il più raro caso di figli di due madri nati all'estero con atto di nascita straniero, la Corte di Cassazione ha sancito più volte che gli atti dei figli di due madri nati nei paesi che riconoscono la genitorialità lesbica devono essere trascritti. La manifestazione di Piazza della Scala è stata organizzata dai sentinari di Milano, famiglia Arcobaleno e Cigar Cigay Milano, presenti molti rappresentanti politici di PD, Sinistra Italiana, Radicali Italiani, Movimento 5 Stelle e più Europa. Chiare le parole di Luca Paladini, portavoce dei sentinelli e consigliere regionale. Questa di oggi, ha detto Paladini, è una piazza di reazione di fronte a un atto violento compiuto da questo governo che mina anche quei piccolissimi diritti che hanno le coppie omogenitoriali. i comuni tentano di sanare una situazione dove manca una legge nazionale. Oggi abbiamo dei minimi diritti che vengono negati. Quelli che sono i soggetti fragili, i bambini, sono i primi a essere messi in condizione di non avere diritti, proprio perché mancano le minime tutele. Se uno dei due genitori dovesse mancare, l'altro genitore potrebbe essere nessuno per il bambino. Quindi, capite bene che c'è un cortocircuito. Quelli che dicono noi vogliamo difendere i bambini, in realtà li mettono nella condizione di massima fragilità. Presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. C'è un vuoto legislativo che va colmato, ha detto Sala. Questo governo sta facendo di tutto per umiliare chi non è come loro. Altro intervento interessante, quello di Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno. L'accanimento di questo governo contro i nostri figli è vergognoso, ha dichiarato Crocini. Di fronte alle incapacità di risolvere i problemi dell'Italia, si usano le famiglie Arcobaleno come arma di distrazione di massa. Ma stavolta la destra ha fatto male i suoi conti. La società civile è già dalla nostra parte. Per più di 50 anni ho dovuto sempre subire una certa forma di omofobia molto palese da parte delle madri dei miei ex compagni. Nulla di strano per l'amor di Dio in un mondo marcio. In un mondo perfetto questo non dovrebbe accadere perché io mi sono sempre posto ma nei confronti di chiunque con la massima apertura mentale con il massimo rispetto presentandomi sempre in punta di piedi nonostante la fisicità sia prorompente. e tutte le volte vivo a scontrarmi con qualcuno che non solo usava i peggiori appellativi per apostrofarmi ma che addirittura anche arrivava ad accusare me per le scelte sessuali del figlio. Lo so verrebbe da ridere se non fosse tragico ma veniamo ai giorni nostri perché omofobia in una famiglia allargata. Adesso ve lo spiego anzi adesso ve lo racconto. Del 2009 quando ho incontrato colui che oggi è il mio marito nelle prime chattate sentivo sempre nominare questa zia devo andare dalla zia devo passare dalla zia devo andare a cena dalla zia e io che normalmente tendo a non fare domande specialmente per entrare nel privato della gente tendevo a non investigare sentivo nominare questa zia omnipresente una sorta di deus ex machina il che non faccio domande. nella nostra frequentazione quando è incominciata a diventare più intima e per intima intendo abbiamo incominciato ad aprirci ho scoperto che questo ragazzo una madre ce l'aveva perché sai quando qualcuno ti nomina sempre un parente un parente un parente uno cosa tende a pensare molto probabilmente avrà perso i genitori e questo ragazzo o questa ragazza sarà stata o stata cresciuta da il parente più prossimo quindi vengo a sapere che una madre è esistente e dico viva Dio che cosa succede siamo nel 2009 il 17 o il 18 agosto decidiamo di passare una giornata al mare in costa azzurra nel ritornare io guidavo eravamo con la mia macchina riceve una telefonata dove c'era questa voce di donna che urlava letteralmente al telefono molto arrabbiata con lui perché non gli ha detto dove andava perché non gli ha detto con chi era e quando lui ha fatto presente non sono solo apriti o cielo è partita una sequenza di insulti che io li ricordo ancora oggi come se fossero capitati dieci minuti fa sono cose che ti fanno male sono cose che ti feriscono ti feriscono molto profondamente e lì ti sei detto oh mio Dio si sta ripetendo lo stesso lo stesso e identico schema lì nico 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 i nostri programmi sono così terminati signore e signori vi auguriamo buonanotte lì nico lì nico